I dividi della stagione sono quelli di riuscire a dare una mentalità vincente a questo gruppo di giocatori in stretta connessione con quello che la società vuole, che indubitabilmente è quello di ritornare in fretta in un campionato nazionale. Abbiamo iniziato da poco, abbiamo fatto una preparazione ritenga adeguata, ci dobbiamo conoscere, molte in realtà sono delle nostre vecchie conoscenze, cercheremo soprattutto di crescere insieme, di avere una mentalità vincente che ci possa servire, speriamo, anche in futuro.